Con l'arrivo della stagione dei monsoni in Nepal si celebra ogni anno la festa Nag Panchami, dedicata a Nag, il dio serpente. A Kathmandu i fedeli hindu offrono al dio serpente offerte di latte, miele, foglie verdi, frutta e fiori con lo scopo di ingraziarselo. Questo garantirà ai fedeli protezione per tutto l'anno a venire, sia dai serpenti stessi, particolarmente diffusi durante la stagione monsonica, sia da eventi naturali come tuoni, fulmini e incendi.